Di per sé è stata una sorpresa, lei è abituata solitamente dalle telefonate da casa, però sapere che c'era già qualcuno qui fuori pronto ad entrare. Beh, ci ha colpito moltissimo, anche perché effettivamente il servizio era stato estrapolato, ma non ci immaginavamo che seguissero proprio direttamente gli interessati. Il tema c'era, però abbiamo capito che l'urgenza di certi messaggi sollecita le persone e soprattutto è la gravità della situazione che li fa muovere. E forse loro stanno tentando veramente tutte le vie, sono molto attenti e sensibili e anche trasmissioni come questa possono essere anche utili. Quindi la sorpresa è stata positiva, anche se all'inizio ovviamente ci ha lasciato un po' così, perplessi non sapevamo come fare. Però è uno stimolo per tutti quelli che ci ascoltano a intervenire il più possibile. È importante per i cittadini, visto che abbiamo avuto l'opportunità di fare entrare questi lavoratori, di partecipare, partecipare alle nostre trasmissioni. Telefonare, venire, dire la propria, perché anche con i politici presenti si sensibilizzano di più. Quindi non starsene a casa sempre, ma perché no? Provare anche a venire. Noi siamo disponibili, porte aperte, con i dovuti modi e maniere naturalmente, ma abbiamo dato dimostrazione di grandissima apertura e di dialogo aperto con tutte le istituzioni presenti. Quindi può essere un'ulteriore opportunità per tutti quanti noi in un momento un po' difficile.